Radiopolo.org Radiopolo.org Vivi, esplora, ascolta Bene, buonasera cari amici di Radiopolo Siamo qui sempre in studio con la straordinaria e questa sera molto molto energica è davvero una grande forza Antonella, da dove nasce? Adesso facciamo giusto un intro giusto per capire tutta questa forza che ti distingue sei sempre vulcanica come mai? Spiegaci, perché stasera hai portato un argomento che credo che buona parte del DNA arriva da quella parte Spiegaci Esatto, buonasera Buonasera a tutti Sì, sono vulcanica Ieri mattina mi è stato scritto buongiorno vulcano perché mi mandano il buongiorno molto simpatici con frasi rispondono Allora, sì, vulcanica ebbene sì beh, c'è molto di vulcano in me perché i miei nonni erano sia nonni materni che nonni paterni è un bel carattere un bel carattere e il resto lo diciamo dopo adesso lascio la parola al grande Enrico buonasera a tutti e speriamo di gratificarvi con ciò che diremo questa sera Allora, questa sera hai scelto un argomento che diciamo con la scuola forse qualcuno può dire ma non lo so quale può essere l'attinenza però se andiamo a spulciare, se andiamo un attimino ad approfondire l'argomento visto che tu vuoi parlare un po' del ruolo dei nonni ecco, il ruolo dei nonni fondamentalmente quanto conta ma quanto è contato innanzitutto facciamo questa nostra analisi personale nella nostra vita quanto contano e quanto sono contati cioè il loro apporto quindi partiamo diciamo un po' dal mio passato facciamo una retrospettiva un retro mio allora sentimentalismo partiamo col sentimentalismo mi mancano, mi mancano i miei nonni e mi mancano i nonni paterni soprattutto perché li ho vissuti di più che vivevano insieme a noi insomma nello stesso stabile però mi mancano anche tanto i nonni materni perché con loro si condivideva essendo una famiglia molto numerosa di mia madre 11 figli si condividevano feste importanti quindi riunirsi davanti ad un albero di Natale giocare in modo sano parlare, ridere e senza televisioni senza interagire dove alla fine quando c'era la mezzanotte c'era quel canto classico invece dei concerti tutt'ora di piazza che non perché vado contro per carità però io preferisco trascorrere le vacanze in famiglia quelle di Natale parlo e anche il passaggio del vecchio al nuovo anno beh l'argomento di oggi è viva i nonni lunedì è la festa dei nonni e i nonni considerati nel ruolo attuale una fonte una fonte storica quindi io direi presente che si mescola con il passato per costruire un futuro grazie ai nonni grazie ai nonni veramente io li ringrazio perché io ricordo tutto ciò che mi raccontavano i nonni sono fondamentali nella società di oggi e io li ricordo con grande affetto io i nonni di materni beh loro avevano mio nonno era circense lavorato per tanti anni al circo e tutti lo conoscono come a cava come Vincenzo Pannazzara perché vendeva stoffe però ha lavorato al circo poi famosissimo perché aveva una grande forza nei denti tirava pullman con i denti e addirittura si stendeva per terra e passavano sul suo corpo auto facevano queste prove e poi fu invitato perché per curiosità di tutto ciò che era su di lui fu invitato alla trasmissione di allora di Raffaella Carrà figlio di cioè insomma lui originario di Cetara comunque mia nonna invece una una sarta meravigliosa e cusciva a mano abiti da sposa ha fatto abiti da sposa per le figlie abiti da sposa per perché prima si facevano in famiglia ma lei questo cuscito questo ricamo quindi voglio dire c'è l'arte io sono figlia d'arte e quindi questi miei nonni materni e io ricordo un nonno materno autorevole non autoritario guardava soltanto e si bloccava l'orologio ai giorni ad oggi invece vedo che i genitori spesso hanno difficoltà che anche se guardano i figli ma non riescono a bloccarli con lo sguardo forse era una severità diversa ma si viveva anche in modo diverso poi i nonni paterni invece c'era un po' più di confidenza e poi quello che non riuscivo a capire da piccola perché non davano il tu al nonno perché a loro papà mio padre lo chiamava col voi insomma c'era questa cosa io non condividevo e lo dissi a mio nonno dissi caro nonno io ti darò sempre del tu e va bene io l'ho detta il nonno il papà di mio padre grande falegname un grande artista e incisore di incisore proprio perché lui incideva a mano mobili di Sant'Arcangelo e la nonna invece di una famiglia ifalanga diciamo una famiglia borghese di Sant'Arcangelo conosciuta insomma che cosa posso ricordare di tutto di mio nonno paterno ricordo le giocate a carte i suoi racconti i suoi racconti che praticamente i racconti dei nonni sono libri che parlano libri che esprimono sentimenti libri che poi i racconti restano più delle parole perché è vita vissuta i racconti di guerra i racconti di qualsiasi cosa e io ricordo ogni attimo trascorso quando poi sono diventata mamma non dimenticherò mai quando dopo tre giorni insomma di di ospedale la prima uscita fu proprio quella di portare mia figlia ai miei nonni e non dimenticherò mai che sta bambina fu presa in tutti i modi di solito le mamme sono un po' gelose ma in realtà no perché io dissi figlia mia nel mio cuore lo dissi ovviamente sta in braccio a storia fonte storica quindi qualsiasi cosa che raccontava mio nonno io lo ricordo lo ricordo lo ricordo tanto perché sono insegnamenti di vita non dimenticherò mai quando il mio nonno mi accompagnava in palestra quindi sono un ruolo fondamentale al giorno d'oggi e a questo punto dico lascio la parola ad Enrico mi sono emozionata perché mi mancano tanto mi mancano tanto le carezze gli sguardi perché poi si addolciscono i nonni con i nipoti con i figli quindi il ruolo del genitore è educare il ruolo del nonno invece è diverso è quindi fondamentale al giorno d'oggi sì i nonni hanno lasciato un segno diciamo indelebile nel almeno nel nostro patrimonio sicuramente è un segno che è incancellabile io posso ricordare quelli materni perché quelli paterni purtroppo non li ho conosciuti e ti posso dire che da loro ho capito che la vita comunque è fatta di tanti sacrifici tanti e loro li hanno accettati anche perché cresciuti in un periodo difficile il periodo della guerra diciamo adesso si parla tanto di di immigrazione oppure di andare all'estero a lavorare purtroppo anche mio nonno ha fatto questa esperienza è stato in Belgio nelle miniere però non ne ha mai voluto parlare io immagino la sofferenza che hanno vissuto non dico solo mio nonno ma tutti gli italiani che vivendo questa esperienza lavorativa fuori dall'Italia quanto hanno sofferto quindi stare ben attento quando fanno delle similitudini con gli italiani che sono andati all'estero a lavorare nel primo novecento subito dopo la guerra loro sono stati davvero utilizzati per le fatiche non dico tanto per il lavoro ma per le fatiche e poi mia nonna straordinaria una persona solare lei lavorava al forno di lei ricordo molto sempre il profumo del pane perché quando arrivava lei arrivava diciamo lì ti ricordo tante poi arrivava il profumo il profumo anche perché loro sono di io diciamo non sono di Cava mio padre era di Cava ma mia madre era di Calitri in provincia di Avellino si sono conosciuti proprio nel periodo della guerra perché molti erano gli sfollati e quindi alcuni sono arrivati fino a Calitri tra cui mio padre e qui è nata poi tutta questa questa storia però ti voglio dire che i nonni io ho dei ricordi bellissimi mio nonno parlava poco ma ricordo che ogni volta che ci vedeva comunque aveva degli occhi straordinari si illuminavano te ne accorgevi subito sempre gli uomini anche perché erano sempre di poche parole ma mentre lei la nonna era figura straordinaria usciva a tenere insieme la famiglia poi sorrideva sempre una figura straordinaria quindi il sorriso era sempre presente nonostante le difficoltà io questo vorrei dire questa questa serata questa puntata che tu hai scelto davvero in un modo straordinario perché il 2 ottobre è proprio la festa dei nonni e noi li dobbiamo ricordare per gli esempi che ci hanno dato gli esempi che sono stati poi il fulcro e il futuro delle generazioni nostre dei nostri genitori e bisogna avere un occhio di riguardo vi rispetto io a volte vedo queste queste situazioni di degrado diciamolo di degrado di persone che vivono in situazioni difficili situazioni che non sono molti dicono che le società evolute si vedono da tanti piccoli riflessi io credo che il riflesso principale è quello di tenere cura delle persone che hanno dato la loro vita per questa società che hanno dato vita con il loro lavoro allo sviluppo di questa società e noi oggi non dobbiamo fare in modo che queste persone devono vivere il loro momento di declino naturale per cui siamo chiamati ovviamente nella vita e viverla in una forma quasi direi quasi di degrado questo non deve esistere assolutamente loro hanno dato un forte contributo allo sviluppo di questa società bisogna renderci conto di questo e quindi bisogna aiutarli in tutti i modi in tutti i sensi vedere persone in difficoltà in età avanzata davvero è una stretta al cuore e io credo che una società voluta questo non lo deve assolutamente permettere quindi attenzione quando facciamo dei riferimenti cerchiamo di guardare bene quello che ci quello che abbiamo intorno abbiamo tanta sofferenza e a volte sono persone indifese una società evoluta prende per mano queste persone indifese e le aiuta in una vita migliore per una qualità per tutto quello che ci hanno dato e ci hanno regalato quindi massima attenzione massimo rispetto per le persone che hanno per le figure che sono per quello che ci hanno dato e ci hanno regalato ci hanno regalato tanto e continuano a soffrire in silenzio perché stanno vedendo ciò che hanno costruito che si sta un po' distruggendo eh sì diciamo loro sono cresciuti allora io penso che a questo punto insomma la realtà di quella che hai detto è visibile perché molto spesso vediamo telegiornali vediamo notiziari di persone anziane che piangono ed è una cosa orribile tocca al cuore allora io condivido soprattutto e leggo la scuola alla festa dei nonni allora la festa dei nonni celebrata già da un po' di tempo da anni da qualche annetto il 2 ottobre il 2 ottobre perché è la festa degli angeli Sant'Angelo Sant'Angelo gli angeli perché perché i nonni vengono considerati proprio gli angeli custodi dei nipoti i nonni al giorno d'oggi sono delle figure solide diciamo proprio la terra sotto i piedi dove calpestano i nipoti al giorno d'oggi sono una figura importante e un sostegno per le famiglie genitori che lavorano genitori che purtroppo perdono il lavoro e quindi automaticamente vengono riassorbiti nella famiglia natia quindi si trovano di nuovo a dove stare e vengono aiutati quindi i nonni però le riallaccio anche al fatto che il nonno ha un po' più di tempo per parlare con i nipoti spesso si sostituiscono ai genitori perché purtroppo ci sono varie situazioni per lavoro per separazioni situazioni difficili dove spesso i nonni riescono a sostituire una mancanza io vedo la realtà vedo tanti nonni che accompagnano i nipoti li vengono a prendere parlano quindi i nonni sono veramente dei libri che parlano perché raccontano con semplicità con parole semplici una vita che hanno trascorso camminando riescono a descrivere ciò che vedono quindi riescono ad ascoltare anche i nipoti probabilmente i nonni quello che non hanno fatto con i figli lo fanno con i nonni con i nipoti allora io voglio dire una cosa importante il nonno al giorno d'oggi veramente va festeggiato va festeggiato anche più di altre feste perché molti nonni donano amore e serenità ed è una cosa meravigliosa viene soprattutto festeggiata e c'è una festa infatti noi abbiamo organizzato a scuola la festa dei nonni per l'infanzia dove i bambini vabbè tra musiche canti recitano oppure qualche volta insomma dipende ogni anno si organizza in modo diverso il gioco antico dei nonni oppure un'altra volta abbiamo fatto i mestieri quindi i nonni si sono messi in moto chi impastava il pane quindi voglio dire questo legame del vecchio modo di fare voglio dire realizzare il pane con i nipoti in effetti il pane lo vedono direttamente nelle vetrine quindi molto spesso i bambini non si rendono conto che queste cose vengono prodotte sembra scontato che un bambino sappia che il pane viene dalla farina impastata con l'acqua no perché ormai diventa totalmente moderno che loro pensano che la pasta è imbussata direttamente non c'è un impasto prima il genitore oggi scappa perché per tanti motivi mentre il nonno sa raccontare e soprattutto insegna ad ascoltare ciò che non riescono più a fare i nostri ragazzi non sanno ascoltare ascoltare significa fermarsi e porre attenzione e far entrare nella nostra mente nel nostro cuore ciò che ci viene dato quindi la prima cosa che io a scuola spiego la differenza tra sentire e ascoltare che è molto diversa sentire è un qualcosa di passivo mentre ascoltare e porre attenzione e quindi incamerare ciò che viene detto e trarre insegnamento per metterlo in pratica quindi molto spesso questi nonni grazie a loro i bambini imparano a ascoltare un'altra cosa si va a crescere perché fino ad una certa età è bello insomma dare il bacio una carezza sorridere al nonno alla nonna poi tutt'un tratto si arriva nell'età di scicile dai 12-13 anni in poi dove si è distratti da altre cose però io dico sveglia ragazzi chi ha i nonni godeteveli andate a trovarli chi non esce oppure fatevi una passeggiata e ascoltateli perché sono loro la fonte storica che vi possono dare consigli ancora tutt'oggi per migliorare un futuro sono dei libri aperti quindi andate sorridete date un bacio dare un bacio a nonno perché molto spesso mi rendo conto perché io lo noto quando sono in chiesa o quando sono nel sociale che i giovani d'oggi spesso hanno paura non hanno paura hanno vergogna di esternare i loro sentimenti che poi sono sentimenti più sani allora io quando incontro mio padre in mezza cioè per strada fa paura dirlo però io lo bacio e lo abbraccio questo lo faccio da quando mi sono sposata quindi praticamente sorranno mia figlia tiene 14 anni 15 anni e mezzo fa e billi stacco da allora ho riallacciato un vero e sano rapporto dove ho capito che l'avrei dovuto fare prima quindi quando c'è bisogna farlo quando non c'è più che si fa allora voglio dire godetevi i nonni andateli a trovare fate fate in modo di creare un'atmosfera non è voglio dire però com'è bello sorridere allora molto spesso io vedo persone anziane per strada che alcuni sono talmente dolci io li saluto buongiorno buonasera non costa nulla un saluto però arricchisce l'altro un sorriso arricchisce far finta di nulla fa star male cioè davanti a te non noti nessuno bisogna per forza non salutare solo chi lo conosce la persona anziana va rispettata perché è storia che ha dato allora quando io spesso gli sento parlare e dicono non si capisce niente più dietro questa frase c'è tanto non si capisce niente più dietro la loro X quando vanno a votare che semmai qualcuno non sa firmare sì ma c'è tanta storia allora patrimonio patrimonio della società hai detto bene hai detto bene perché perché pensa che nel 2003 l'UNESCO ha fatto una convenzione proprio per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e cioè delle cose che vanno attraverso i racconti attraverso il folklore diciamo quelle cose che si tramandano verbalmente che non hanno una realtà attraverso libri oppure si tramanda verbalmente quello che facevano i nonni con noi raccontavano le loro storie il loro vissuto le loro esperienze quindi sono proprio racconti immateriali e questi rientrano nel patrimonio dell'UNESCO pensa nel 2003 nel 2006 è stato poi ratificato anche in Italia e questo deve far pensare se noi a livello mondiale abbiamo delle realtà che diciamo rispettano proprio questo tipo di comunicazione che avviene dal passato e ci arriva fino a noi bisogna far sì di non staccare proprio il cordone umbilicale perché la nostra natura è quella di ricordare da dove da dove arriviamo chi siamo non possiamo disconoscere la nostra storia altrimenti ci ritroveremo con un niente con un nulla di fatto perché noi siamo fatti di patrimonio culturale che arriva da lontano i nostri nonni è una parte di noi nel nostro DNA c'è una parte del loro bagaglio cioè noi siamo fatti di tutte queste realtà i nostri nonni viaggiano con noi e lo saranno sempre e se siamo così bravi ad averli anche nel nostro cuore attraverso i nostri pensieri allora vivremo una vita sicuramente straordinaria bellissima così come i genitori così come tutte le persone che amiamo quindi bisogna ecco come i grandi a volte molti si sono alla ricerca della felicità assoluta la felicità assoluta alla fine tutti arrivano in un in un solo quesito in un solo pensiero in una sola risposta bisogna amare e nell'amore quello volevo dire ecco la risposta in tutti i nostri quesiti i nostri problemi i nostri affanni bisogna sapere amare i nostri nonni se rileggiamo la loro vita fatta di sofferenze ma sempre col sorriso io ascoltavo ecco il bene immateriale i racconti un vissuto di una donna che alle tre e mezza di mattina per lei era tre e mezza di mattina si alzava e andava al mercato a prendere quello che riusciva a prendere per poi rivenderlo perché aveva una famiglia da portare avanti alle tre e mezza di mattina alle otto e mezza finiva la vendita e iniziava il lavoro a casa cioè tu immagina la vita di questa donna e lei non era per niente cioè per lei era naturale cioè lei non si è sentita mai in difficoltà non ha mai avuto e ha cresciuto comunque e non si lamentava quattro figli ha cresciuto non si lamentava pensa che il primo lo portava con lei alle tre e mezza al mercato questo ragazzo quando ne parla perché poi ho conosciuto anche i figli quando ne parla lui ne è orgoglioso lo sai minimo allora questo significa coltivare sentimenti positivi allora smettiamo di seminare odio seminiamo amore e sicuramente avremo fiori straordinari quindi Enrico da libriamoci a libreriamoci se d'accordo allora un nonno e una nipotina su una panchina in villa uno all'estremità dell'altro è un'immagine meravigliosa cioè quindi vuol dire estremità perché sono generazioni diverse quindi c'è proprio un passato e la nipotina piccolina e dice nonno che cos'è l'amore e il nonno risponde è il sentimento che racconterai di me quando sarai grande che dici? dico che è accentrato ovviamente la saggezza vedi la saggezza popolare ogni volta che si parla di una grande noi citiamo sempre i grandi filosofi della Grecia ma noi abbiamo una filosofia costante e continua perché la filosofia è un qualcosa che si aggiorna anche io ti porto l'esempio se vai a rivedere un po' Napoli milionare quando Edoardo ritorna dalla guerra e dove lui cerca di far capire la tragedia il dolore la morte la sofferenza i figli non vogliono ascoltare ecco vedi questo è quello è la sofferenza del patrimonio che vuole continuare a far capire alle nuove generazioni le cose da fare e le cose da non fare e la paura di continuare ad ascoltare perché ormai il passato è obsoleto non ha più senso ricordarlo non è assolutamente vero perché gli errori del passato nel ricordarli significa non continuare a perpetrarli nel futuro quindi poniamoci un interrogativo oppure io stimolo e dico scuola 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 lo dico tre volte docenti carissimi fate in modo che il cordone scuola famiglia non venga rotto e interrotto quindi noi ci lavoriamo alla scuola dell'infanzia primaria sull'importanza del nonno all'infanzia si fa la festa la primaria ci lavoriamo in modo diverso allora voglio dire diamo importanza ai sentimenti perché purtroppo più si cresce e più si perdono questi veri sentimenti io ho due figli abbastanza grandicelli e se mi dicono la grande dice mamma vado dalla nonna perché voglio fare un dolce io l'accompagno sono felice e molto spesso è capitato quest'estate e continua a capitare mio figlio la stessa cosa ho chiamato il nonno ho finito i compiti vado con lui mi vado a fare una passeggiata a piedi ogni tanto racconta sempre le stesse cose però mamma ha ragione non fa niente perché anche se la raccontano la racconta ma in modo uguale perché io questo dico non importa se un racconto lo ripete più di una volta perché anche se si ripete è sempre verbale quindi quel che non si è detto prima lo si dice dopo quindi voglio dire raccontare non è soltanto lettura e parole scritte perché voglio dire tanti nonni non sapevano leggere e ci sono dei nonni che tuttora non sanno leggere e scrivere ma io li ritengo di alta cultura storica perché è storia vissuta e vivono tuttora quindi è sempre insegnamento quindi vogliamo allargarci per correre verso un futuro di multimedialità però io penso che torniamo un po' indietro cerchiamo di far vedere a questi ragazzi come si come si lavora con le manine l'artigianato impastare sporcarsi perché sembra che al giorno d'oggi nessuno si vuole sporcare allora io penso che i vecchi mestieri non debbano essere considerati vecchi mestieri ritorniamo ai giochi che si facevano una volta invece ora si deve per forza stare davanti ad una televisione non si può giocare all'aperto non si può giocare anche creando allora dobbiamo stimolare ragazzi adolescenti e bambini sono andata a ritroso dai grandi ai piccoli stavolta voglio fare dai grandi ai piccoli perché i piccoli hanno bisogno dell'adulto i grandi pensano di non aver più bisogno degli adulti io sono una persona adulta ma ho sempre bisogno di un adulto io sono stata cresciuta dalla prima sorella di mia madre che hanno voglio dire mia zia adesso fa 80 anni mia madre ne tiene 65 vedete che che differenza voglio dire sono stata cresciuta dalla prima sorella la prima sorella di mia madre era bravissima a scuola però purtroppo poi allora i nonni purtroppo la nonna aveva necessità di tenere mia zia a casa per crescere gli altri figli perché prima non c'era la lavatrice si doveva lavare i panni a mano con la cenere nei lavatori ed erano tanti figli quindi il lavoro però io quando mi racconta queste cose il lavoro a maglia il ricamo intanto io imparo da cucinare guardando lei perché mia madre insegnava e quindi eravamo affidati a lei che voglio dire potrei dire che è come se fosse una nonna per me perché la prima di 11 ecco diciamoci così e intanto io vado quando la vedo la bacio l'abbraccio allora non abbiate paura di esternare i sentimenti io parlo di sentimenti puri di sorridere di sorridere anche di fronte all'avversità svegliamo questi ragazzi sveglia ragazzi rispettati i vostri nonni con un sorriso un in più e non un in meno se vi chiamano e dicono vieni a trovarci ogni tanto non vi fate chiamare andate eh andate oggi questi giovani che sono così proiettati verso immagini ormai curate e realizzate ad arte da persone e personaggi che forse nemmeno conoscono quindi come si dice bisogna amare sempre le persone che ti hanno dato tutto quello che potevano queste sono persone che ti puoi fidare ecco mentre oggi purtroppo il web la televisione ha creato delle figure che sono così belle diciamo senza sentimenti perfette dei cloni senza sentimenti perché i sentimenti fanno soffrire la sofferenza cioè l'amore per loro è sofferenza l'amore è piacere l'amore è sorriso l'amore è abbraccio l'amore è tutto quello che si può dare ad una persona con tanta piacevolezza è un cuore aperto Enrico al giorno d'oggi hanno paura di rischiare hanno paura di amare io credo che l'amore vero sia un po' amare e soffrire ritirato sia un po' ritirato in buon ordine è sacrificio certo ecco l'insegnamento dei nonni il sacrificio il sacrificio perché in passato non c'era tutte le comodità che ci sono risorse economiche pari a zero però hanno sopito portare avanti una famiglia dei figli oggi se c'è un libro in più si lamentano dello zeno pesante ma intanto loro quando i miei non erano piccolini portavano più di uno zaino beh si lavorava già in tenera età oggi si parlerebbe di sfruttamento della mamma mia però cerchiamo di capire che diciamo ci sono termini che possono essere utilizzati e certamente non associati ad altre condizioni e situazioni di vita che parliamo di alimentazione ma grazie a loro noi ci ritroviamo un po' quello che abbiamo con il loro sacrificio il loro lavoro e tutto quello che poi ne è venuto dopo quindi onore e merito a questa figura dei nonni quindi ricordiamoci le persone in difficoltà voglio ripetermi perché deve essere sensibilizzata questa fascia di società che è oggi fortemente in difficoltà io vedo specialmente poi vedi a volte la stampa in molti casi ne fa solo un uso di notizia questa è la cosa un po' mi infastidisce perché la notizia nasce e muore mentre il problema resta e molti che cosa dicono alla fine io spero solo che il riflettore spenti il tutto non venga dimenticato questa è la cosa che fa male malissimo io semmai da conduttore professionista davanti alla telecamera con una affermazione di questo tipo non so come come ritorner io penso che sicuramente ci resterebbe male perché il problema certo non lo puoi risolvere tu no però se facciamo squadra squadra ecco quello voglio dire allora partiamo non partiamo dallo stato stavolta partiamo dal piccolo dal piccolo dal piccolo controlli ma controlli fatti bene significa mettere la propria faccia senza aver paura controlliamo guardiamo analizziamo dove c'è da aiutare perché purtroppo questa è una realtà che tocca tutti quanti ecco è una realtà che tocca tutti quanti lo saremo anche noi lo saremo anche noi allora io dico ogni scarpa diventa scarpone vogliamo dirlo anche napoletano anche napoletano ogni scarpa devendo scarpone voglio dire che cosa significa la saggezza popolare è questa non si sbaglia mai quindi voglio dire noi adesso siamo freschi pimpanti giovani voglio dire però poi dopo diventeremo anziani allora com'è brutta la solitudine allora non c'è più solitudine di chiudersi in se stessi ma a livello che di non provare sentimenti perché come si fa a non emozionarsi e a non provare dei sentimenti quando si vede una persona che soffre come si fa alla fine ti porti un magone dentro un malessere che speri solo che arrivi quanto prima il momento di salutare questo mondo ci sono molti che lo pensano molti sì proprio perché non riescono più a dare il loro contributo non sono si sentono inutili si sentono inutili perfetto si hai detto si sentono inutili e questo non deve mai accadere perché come hai detto i nonni la scuola i nonni sono una grande scuola perché possono insegnare tante cose possono sviluppare una personalità una consapevolezza un modo di affrontare i problemi in una forma diversa con una grande forza di volontà ci possono insegnare possono insegnare i giovani possono dare tante risposte ai giovani dove non riescono a trovarle perché non le troveranno da nessuna parte se non da chi generato dal cuore riuscirà ad emozionarsi a dare tutto quello che è il meglio ma perché i nonni prima che voglio dire i nonni hanno l'esperienza di vivere la vita hanno vissuto la vita senza strumenti che hanno giorno d'oggi dove si facilita la vita è tutto facile si ha tutto strumenti di tutto di più ma guarda prima non è che è cambiato poi tanto perché i nonni comunque davano quel sostegno quel supporto alla famiglia i genitori comunque si davano da fare lavoravano i genitori hanno sempre lavorato anzi anzi oggi si lamentano che purtroppo i genitori lavorano è una vita frenetica la mattina forse c'era un'autonomia diversa i bambini crescevano con una capacità di autogestione forse c'erano meno problemi fuori noi siamo cresciuti almeno personalmente in un ambito di vita così vissuta in gruppo in strada erano tempi diversi sono d'accordo però questo lo si può fare comunque in situazioni dove ci possiamo incontrare certo non lo possiamo fare in strada forse è più difficoltoso non ci sono la sicurezza ecco oggi si chiede a gran voce sicurezza sicurezza la sicurezza la possiamo innanzitutto creare avendo noi quella responsabilità di pensare e di costruire un mondo migliore non lasciamo sempre delegare delegati in giro sperando che facciano anche i nostri interessi diciamolo perché io spero che si riesca a a costruire un qualcosa di positivo per i nostri figli per un giovane per il giovane del domani non lo so perché voglio dire come si è presa la piega ogni tanto mi viene un po' però io voglio dire lunedì è la festa dei nonni e quindi festeggiamo 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 siamo positivi voglio essere positiva lanciamo questo grande messaggio di essere positivi di vedere queste persone come davvero quella ricchezza che ci può aiutare ad affrontare tutti i problemi ti ricordi il film indovina chi viene a cena sì lo ricordi il film è che poi è diventato nonno nel secondo film con Liz Taylor che insomma lì per lì poi diventò nonno poi diventò un nonno bellissimo eccezionale poi si perse il nipote perché sbagliò a prendere la carrozzina in villa alla fine portarono sto nipotino in in poli insomma al distretto di polizia comunque è un film stupendo simpaticissimo dove c'è questa figura di questo nonno perché pure mi ricordo quando disse a mio padre sei per diventare nonno oddio no nonno poi alla fine questi nonni che esplodono e danno il meglio di loro e sono troppo belli a vederli e l'emozione in loro e quando allora perciò dico è bello vedere anche un ragazzo di 15-16 anni a passeggio con i nonni per chi può portarseli a passeggio per chi invece purtroppo insomma non può perché stanno a casa andate a casa per chi insomma è volato già ad altra vita andate al cimitero fate una preghierina perché tanto voglio dire noi uomini abbiamo sempre bisogno di attaccarci allora ovviamente chi è credente chi non è credente ma alla fine io penso che anche chi non è credente è credente uguale perché sempre in qualcosa bisogna credere per andare avanti nella vita bisogna sempre credere in qualcosa allora io credo che credo nella forza dei nonni credo nella forza di questi nonni di tutte le età e quindi dico se i nonni voglio dire se non è la mometto che va alla montagna è la montagna che va da mometto allora cari nonni se il vostro nipote di 15-16 anni non viene chiamatelo e dici che vuoi fare vogliamo andare al cinema stasera purtroppo è così l'adulto che va verso il ragazzo ancora mi rendo conto che non è semplice però io lo vedo dai miei figli che molto spesso stimolano ciò che mio padre non ha fatto con me voglio dire di tutto di più e mio padre che è un fumatore di sigaro adesso non fuma più il sigaro perché 15 giorni fa mia nipote disse nonno mia nipote ora è sempre in prima elementare nonno ti devo dire una cosa e il nonno disse mio padre disse dimmi a nonno però non ti devi dispiacere perché io ti voglio bene però sai una cosa puzzi un po' come puzzi un po'? Sì puzzi di sigaro io non te lo volevo dire però mi dispiace anche mio padre ha tolto il vizio di fumare il sigaro quando me l'ha raccontato che poi voglio dire io sono sempre di corsa quindi mi corre appresso in casa voglio dire mio padre che mi corre appresso ovunque voglio dire immaginate la scena poi mi fermo e fa mi ascolti un attimo no e mi raccontò sto fatto di sì papà veramente non fumi più non senti il profumo allora voglio dire vedete che cosa succede nella mente di un nonno ma lui me lo raccontava con le lacrime agli occhi quindi è mia nipote idemi i miei figli idemi voglio dire quindi emozioniamoci e libreriamoci con i racconti reali caro Enrico quindi stimoliamo questi ragazzi lunedì festeggiate i nonni perché chi ha i nonni ha un tesoro ha un patrimonio è un patrimonio che ha riconosciuto e noi eleggiamo i nonni proprio come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO lo facciamo noi personalmente come 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 c'era una volta come Radio Polo come come Antonella Di Nolfi che fortemente ha sottolineato questa sera con questo argomento davvero un'emozione straordinaria perché a volte sai certe cose tu le le metti un po' nel cassetto e le ricordi così vagamente di tanto in tanto e riportarle così in auge significa ritornare a vivere ad emozionarsi con persone che ti hanno dato tanto e ti hanno fatto sorridere tanto e ti hanno regalato un momento di vita straordinario io li ricordo e li ricorderò sempre come i momenti più belli più belli davvero della mia vita siamo in chiusura siamo in chiusura e quindi a questo punto ti dico semplicemente grazie e ti dico i nonni scuola di vita i nonni a pari passo con la scuola c'è un insegnamento forte che ci hanno lasciato basta saper parlare dialogare incontrarsi trovare un momento di incontro ed ascoltare perché in molti casi manca proprio l'ascolto e quindi loro a un certo punto si sentono inutili e si mettono da parte cosa che non deve assolutamente succedere ok io vi saluto vi saluto grazie a voi è stata una puntata bella ricca e allo stesso tempo sentimentale forte di sentimenti perché ovviamente scavare dentro il proprio cuore a volte non è semplice e grazie a te Enrico e alla possibilità di poter esprimersi perché questo date a me in questo momento quindi e spero che quello che abbiamo detto questa sera possa arricchire le persone che ci sono in ascolto perché io sto notando che l'ascolto c'è l'ascolto si sta allargando quindi io dico grazie a Radio Polo e a e a chi crede in questa radio quindi lo 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 sto veramente allargando perché è una radio un po' diversa tra le virgolette tra virgolette nel senso che allarga allarga gli orizzonti allarga le spiegazioni e allarga l'ascosto beh ti ringrazio ti ringrazio di questa tua di questo tuo momento che sottolinea un po' il nostro obiettivo il nostro obiettivo è quello di di avvicinare un po' le persone riavvicinare chi si è allontanato e ritornare a sentirsi persone uomini che nel loro piccolo nel loro modo di esprimersi hanno saputo creare questo mondo straordinario quindi non dimentichiamo che attraverso la parola riusciremo a creare cose straordinarie come sempre e solo noi sappiamo fare grazie a te Antonella grazie a te grazie a voi ciao a tutti ciao buona serata grazie a te grazie a te